Sono Luca Barbareschi e voglio dare il mio sostegno a Emma Bonino come candidata alla presidenza del Quirinale. È un'ottima persona, un grande politico di relazioni internazionali ed è una donna che ha fatto già moltissimo per l'Italia come quasi tutte le battaglie dei radicali. Sarebbe un sogno per un paese che vuole andare verso il futuro e che vuole migliorare come immagine e anche come contenuti. Auguri ad Emma.